Ciao ragazzi, bentornati o bentornati sul mio canale, io sono Magnus, finalmente è arrivato il nuovo DLC della Lego Marvel Avengers, sto parlando di Pantera Nera Classico. Prima di andarcelo a fare volevo salutare Alessandro Polverino e Daniel Chiariello. Ragazzi, questo video è per voi e spero soprattutto che vi piaccia. Comunque non ci perdiamo in chiacchiere, ci andiamo a vedere subito il livello e poi naturalmente farò sicuramente un video per andare a vedere anche tutti i vari personaggi. Vai! Wakanda, una civiltà remota e tecnologicamente avanzata del continente africano, tre volte vincitrice di produttore di vibranio dell'anno e quel che più conta, casa mia. Io sono T'Challa, figlio di T'Chaka e come già mio padre, vesto i panni di Pantera Nera per proteggere il nostro popolo e sono un mago dell'uncinetto. La mia prima prova come Pantera Nera fu sconfiggere Klo, l'avido mercenario che mi portò via mio padre. Con l'aiuto di mia sorella Shuri, mi sono preparato a salvare il mio popolo e portare Klo davanti alla giustizia. Che inizi la caccia. Mi piace la tua aereo-moto. Eccolo qua, comunque, Pantera Nera. Allora, ragazzi, diamoci un po' dentro e vediamo soprattutto se possiamo raggruppare qualcosa. Chi è là? Ok. Fatevi avanti. Iniziamo subito a capire se lo possiamo utilizzare anche per bene per il combattimento. Allora, credo che qua ci sia qualcosa da costruire, credo. Scusate, ragazzi, ma dobbiamo fare un po' di strada. Volevo capire bene. In pratica, che fa? Non fa l'atterraggio. Sì, fa un semplice atterraggio, ma niente di particolare. Vabbè. Andiamo avanti. Qua mi sa... Che è sto cosa? Oh, fate vedere la mossa vincente. Ammazza, che bella mossa vincente. Ok, qua dovremmo poter scavare, giustamente. Pantera Nera, se non scava lei. Ok, iniziamo a costruire. Ma che sta a fare quello? C'è un tizio qua che balla e... No, che ride. Ma... Bravo. Ok, spingiamo la prima leva. Oh, è un artiglio quello. Allora, deduco che dobbiamo colpire anche l'altro. Per sbloccare qualche altra cosa. Allora, qua non credo che possiamo fare qualcosa. Fantastico. Qua nemmeno... Allora, vedo là qualcosa che luccica. Quindi, vediamo se lo possiamo colpire. Che bel tiro a parabola. Aspetta, qua mi sa che devi costruire qualcosa. Altra leva, vai. Spingi, spingi. Che c'è? Non riesci a spingere. Non ce la fai? Hai bisogno di... Ok, vai. A Wakanda veneriamo la Dea Pantera. Che ci protegge e ci guida sin dall'inizio dei tempi. È lei che mi ha benedetto con i miei poteri. Oh, ho visto anche il cilindretto là sopra. Vabbè, da tanto capirai. Quindi li andiamo a prendere poi in un altro episodio. Che facciamo qua? Come rompiamo? Ah, ok. Botta e via, vai. Dovresti costruire qua? Attenzione. Attenzione. No, non si è aperto un tubo. Ok. Ah, allora. Che meraviglia. Allora, diciamo lo stesso segno? Aspetta un po'. Vai. No. Ok, perfetto. Eh, vabbè. Vabbè. Ok, quindi mi sa che dobbiamo becchiare... Allora, là c'era la... Questo, mi pare. La macchina fotografica. Una roba del genere. Vediamo un po'. Ok. Manco per niente, quindi... Per esclusione direi la casa a questo punto, no? Ci siamo? Ok. È quella giusta? Messa a DC. Ok. Quindi, porta si è aperta. Fantastico. Il percorso più diretto verso la destinazione passava sopra le turbine. Era pericoloso. Ma non avevamo scelta. Shuri, mia sorella. Feroce e leale. Ho sempre cercato di proteggerla. Ma ne ha veramente avuto bisogno. Le sue abilità di guerriera erano pari solo al suo intelletto. Sì, ma non abbiamo scelto tua sorella, eh, Pantera Nera. Ammazza che voce. Come te me. Sono sempre fantastici. Il mezzo di trasporto che ci serviva era stato danneggiato durante l'attacco alla città. Andava riparato per raggiungere Chloe in tempo. Eh, vabbè. Il solito culo, come si dice, no? Vabbè, dai. Allora, dobbiamo riparare qualcosa. Vediamo un po'. Allora, là sicuramente non possiamo fare un tubo. Perché è d'oro. Non credo che Pantera Nera possa avere il fascio. Ah, ecco, giustamente. Allora, iniziamo a rompere qua. Che secondo me dobbiamo costruire qualcosa qua, eh. Scusami, eh. Fatti la parte. Ragazzi, siete in due, ma dovrebbe morire. Ok, allora. Iniziamo a costruire sto coso. Bravo, il dolore è meritato. Vai. Ok. Ma dove sta tua sorella? Che fine ha fatto? È rimasta dall'altra parte? Non viene con noi? Ammazza, sei ancora qua giusta, eh. Vediamo un po'. Vai, ce la dovresti fare. Porca miseria, che culo. Cioè, in pratica, pensavo che fosse stato un po' più veloce. Allora, vuoi vedere che tu sei come occhio di falco? Ok, brava. L'abilità di Shuri con la lancia era incredibile. Non invidio chi provò ad affrontarla. Ma veramente quasi nessuno. Ok, dai. Meno male che è come occhio di falco. Quindi questa è una buona notizia. Uh, là c'è qualcosa. Eh, vabbè. Allora, quella la possiamo prendere. Che cosa è questo? Il gioco delle balline? Che se c'è? Aia. Si è rotta l'acqua, eh. Cos'è? Ah, c'è un tesoro là sotto. Vai, vai. Cioè, dovresti scavare? Dovresti scavare, credo. Lo so. Ok, vai. Scava. Scava. Che c'è qua? Ah, qualcosa per costruire... Terminare il computerino, penso. Aspetta, eh. Oh, speriamo che non sono tipo quei marchi ingegni particolari. Allora, pantera nera sta là. Che? Ok. Ah, una sorta di... Puzzle. Ok, partiamo da qua, che forse è più facile, secondo me. Perché penso che... Vai. Ok, dovremmo dirigere la strada verso qualcosa. Ok, quindi questo va bene. Mi sa che dobbiamo premere su questo. Non credo che questa sia la posizione tua giusta. Ma neanche questo. Ok. Vediamo quest'altro. Perfetto, anche qua. Quindi qua penso che dovrebbe andare così. Questo di qua. Ancora. Mazza, eh. Siete di una velocità stratosferica proprio, eh. Ok. Vai. Vai ancora. Vai che questo è l'ultimo. Vai. Ce siamo? Ancora no. Ok. Credo che dovresti farcela, eh. La butto lì. Yes. Ok, è arrivato il treno. Terminammo le riparazioni e presto potemmo ripartire. Avremmo consegnato Clou alla giustizia. Augustin Dulac, il Cavaliere Nero, vanificò i nostri sforzi. Dovevamo prendere la navetta sostitutiva. Ero alle calcagna di Clou. E assaporavo la vittoria. Mi servivano solamente le monetine contate. Le monetine contate. Oh, guarda chi c'è là sotto. C'è un ser di morto. Il nostro assalitore era Augustin Dulac, detto il Cavaliere Nero. Che si dice di scenda direttamente da Ser Lancillotto. Mi diede del gaglioffo. Più che sentirmi insultato, rimasi alquanto perplesso. Oh, avete visto cosa ha fatto? Ti ha dato del gaglioffo, ti ha dato, eh. Bello. Mi piace sta mossa di Pantera Nera. Non so se è stato culo. Ah, li abbiamo visti, ragazzi, eh. Quanti ne sono... Ah, sono sei, ammazza. Allora, iniziamo subito. Vediamo un po' di farceli fuori tutti, eh. Ok, non dovremmo avere problemi, però, eh. Che è successo? Forza, forza Pantera Nera, eh. Ok. Ce ne sono altri due ancora. Ok, liberate, vai. Che è sto cosa? Dobbiamo montare? Allora, vai, vai. Colpisci, 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 colpisci. Che vuole... Nooo, aspetta. Il Cavaliere Nero sembrava impugnare la sua lama d'ebano goffamente. Vai. Come un brutto. Ma dovevo fare attenzione che non fosse un trucco. Eh, lo so. Che indurmi ad abbassare la guardia. Appunto. Non è che un cuoricino gliel'abbiamo tolto, eh. Solo che ti vedo un po' in difficoltà. Magari vediamo... Eh, Stan, guarda, non è il momento, eh, in questo momento... Ecco, anche perché ne arriveranno due. Eh, ma non capisco. Ah, eccoli qua. Aspetta, eh, finisco di montare un massimo, eh. Ok. Cerchiamo di lavorare un po' di cuffia, eh, Pantera Nera. Bella sta mossa. Oh, che galattica! Gli ha spregiato la faccia. Cosa che ha detto? Non ho capito. Dai, dai, dai. Lavoriamo vicino. Vieni qua, vieni. Bella, questa mossa mi piace tantissimo. Attenzione, eh, ti stanno menando, eh, Pantera Nera, eh. Ok, vai. Vai, vai, da quest'altra parte, vai. Secondo me è meglio lei, eh. Mazza, questa è forte, però. Porca miseria, non lo riesco proprio a colpire. Eh, non so se... Ok, vai, vai. E vai. Bravo, va qua. Dai, stop. Eccoli. Arrivano. Vediamo di fregare. Eh, se vieni qua vicino, sorellina, a mazza, sono dieci stavolta, eh. Perché impiegare tutto sto tempo a scendere? Ecco qua. Oh, avete visto? Questa era la mossa di prima. Pensavo che fosse una cosa venuta a culo, e invece era qualcosa di... Oh, avete visto? Aspetta, voglio vedere... Voglio vedere l'altro come fa, eh. No, no, l'altra parte. Che chiave stai combinando? Lei invece cosa fa? Mi sa che lancia soltanto la mazza. Oh, lancia la mazza. Non volevo essere bulgare. Magari si chiacchia. Aspetta che è l'ultimo perfetto. Vieni, che adesso ti facciamo il culo. Porca mia, però sì. Questo cavaliere è abbastanza forte. Vediamo se riusciamo a colpire. Almeno un po', eh. Ok, beccato. Avevamo battuto il cavaliere nero, ma restava lo scontro finale con Clou. Ho detto di no, Stan. Guarda, sicuramente ti daremo una mano la prossima volta. Vediamo se c'è qualcosa qua sotto. Aspetta che sicuramente c'è qualcosa qua sotto. Non c'è una mazza qua. Che è? Ah, ok. Dobbiamo... Ammazzare che percorso, ragazzi. Vabbè, tu sei uguale a occhie di falco, quindi per cui dovresti tranquillamente... Sì, ho capito, non c'è problema. Aspetta. Questo l'abbiamo beccato. Ok. 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 Ah, ma andiamo il fratellino, perché penso dovrebbe essere quello più bravo a saltare. Ok, vai. Vai. One, two, e three! Abbasso il pistoncino. Ok. E quindi? Ah, sta anche dall'altra parte, penso. Aspetta, aspetta. Fammi vedere. Non vedo... Appigli, non vedo una mazza. Aspetta, vediamo un po'. Oh! Aia! Con Shuri al mio fianco. Non potevo sperare in un'alleata migliore. Eh, aspetta, eh. Io direi... Infine mi trovai faccia a faccia con il criminale Klaw. La pantera nera aveva sdidato la preda. Eh, allora, prima di... Ammazza, quanti curi che c'ha, eh. Vabbè, già glielo abbiamo tolti due, praticamente. Uh, ahia. Allora, io, ecco, prima di cantare vittoria, inizierei un pochettino a vedere se riusciamo a fare qualcosa. Qua facciamo... Questo non parliamo, ma riusciamo a beccare così. Ma che fai? Vi menate fra di voi? Oh! Che c'è? Aspetta, è così. Scusami, eh. Oh, in testa. Ok, dai, dai. Gli abbiamo tolto il fludo, vai. Aia. Aspetta, aspetta. Dovresti farcela, eh. Chi vince? Ok, dai. È forte la ragazza, eh, però. Così tante armi a sua disposizione. Klaw si era fatto sempre più arrogante. Vediamo un po' se invece... Quella sarebbe stata la sua rovina. Vediamo se tuo fratello riesce... Aia. Ce ne stanno ancora altri, eh. Eh, lo so. Questo dovrebbe essere qualcosa di buono, eh. Vai, vai, vai. Vai, pantera nera. Ragazzi, mi sa che vi... Vi attacco dappertutto, eh. Mi piace molto la velocità. No, no, non c'è bisogno. Facciamo un attimo il culo a questo. Lanciamola. Vai. In testa, eh. Dall'altra parte, dall'altra parte. La battaglia diventava sempre più rischiosa. Ma non credo, aspetta. Aspetta, ah. Più coca, che hai detto? Aia. Aia. Cercavo di non farci fregare. È veloce, però, eh. Veramente. Ok, gliel'ho lanciato, eh. In testa gliel'ho lanciato. No, qua ci sarebbe bisogno di... Aia. Un sentrai. Vai. Niente. Ce la facciamo. Ancora, per niente. Ho capito, ho capito. Aspetta, aspetta. E no, non ce la fai dall'altra parte. Vai, vedo. Adesso è il momento giusto, vai. Vieni, 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 amico, vieni. Dai che ce la fai, vai. Atta. No, ancora. Vai, tira, tira. In onore di tua sorella. Ok, vai. Tiralo di qua. Dai che lo meniamo, dai che lo meniamo, vai. Dove va, dove va, dove va? Bastardo. C'è ancora tre cuoricini. Appena abbiamo la possibilità. Aia. Sono dieci, ragazzi, eh. Oh, mi piaceva la mossa che avevate fatto insieme. Aspetta un po'. Vieni qua vicino, vieni. Se vieni vicino, riusciamo a fare una bella mossa. Ecco, vai, adesso. E andiamo. Abbiamo distrutto tutti. Ok, fregato, vai. Vai, che adesso... Manca ancora un cu... No, quanti cuori? Dall'altra parte devi menare. Ecco. No, no, no. Ultimo cuore. Vai, aspetta. Ah, bastardo. Dai, l'abbiamo quasi fatto. L'abbiamo quasi fregato. Perché spari soltanto a me? Eh, c'è anche l'altro, eh. Non è che... Eh, c'è anche l'altro. Niente, ce l'ha... Ce l'ha con la sorella, eh. Ok. Questo... Che vuoi fare, così? Non riusciamo... Occhia. Dai, che ce la dovresti fare. No, che fai? Lancia la... La lancia addosso al tuo fratello. Quello, così, cacchia. Attenzione, vai. Niente. Vai, che... Aia. Non riusciamo a becchiarlo. Guarda. Appena ti liberi un attimo, sicuramente li becchiamo, eh. Vai, che c'è qualcosa qua. Che è sta cosa? Montami sto co... Ehi, testa. Ok. Vabbè, alcuni poi ci serviranno... Beh, sbloccato gli obiettivi finali. Ok, ragazzo, sei spacciato, eh. Gara. Dai, lancio il dio della fume, vai. Tac, tac. È morto ormai, è morto. Sei morto, ragazzo. Ne trionfai. Clue era sconfitto. E avrebbe affrontato il giudizio della Dea Pantera. Sì. Ma non prima di affrontare il mio. Vedendo Clue a mani in alto, a mano in alto, i suoi codardi mercenari fuggirono. Ricostruimmo la nostra città. Le sue mura e la sua gente non erano mai state così forti. Anche mia sorella si era dimostrato una forza temibile. di cui Wakanda avrebbe presto avuto bisogno. Ma questa è un'altra storia. Oh, quindi l'abbiamo completato. Naturalmente non al massimo, però abbiamo comunque raggiunto dei buoni risultati. Vabbè, qua naturalmente con il moltiplicatore, ragazzi, non so nemmeno a quanto siamo arrivati. Qui mi pare che anche abbiamo raggiunto il 100% perché è uscito per la regionale Lizzo. E infatti così è. Vabbè, stai lì. Ti recupereremo sicuramente un'altra volta. Qua mi pare uno l'abbiamo beccato, vabbè. Questo non importa. Il blocchetto neanche questo ci importa. Sicuramente lo andremo a beccare un'altra volta di nuovo. Ok ragazzi, spero come sempre in questo video vi sia piaciuto. Non è che se nemmeno i commenti, se nemmeno di mettere mi piace. Ci vediamo al prossimo video e bye bye.